Sì, è un momento di resistenza, non con la volontà di recorre, non cosa passa. La salvaguarda di un mare putore, non si può fare, antes di essere libertadone di noi, insisti, voglio resistenza, non per il campo. Non è visto bravo, cuore, cuore, cuore di cabra, ma non c'è questo direttore, la cabra paga imposto. Se non è visto bravo, non per le c Palace, non in Italia, Rappido per caire di sol, ci senti un diritto dell'Atlantico, un'uidea storia di una donna in Caracola, che morano a rendere sin destino, rilanteca nua, nel fondo di mara siano l'Atlantico, che non rinccorino dalla donna in Caracola, non rinccorino di una donna in Caracola, in giro di luta con libertà nero non è scusso una storia ma è bonito non è bonito ma è un uomo di boe non è difficile non è possibile 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 la posizione di bianca e se ti andano a buscar paz e questo un guavo che mi ferito che mi ferito che mi ferito che mi ferito che patrimonio propio sono non potremmo ma non potremmo ma non potremmo ma non potremmo non potremmo non potremmo è il resto di qualsiasi è potremmo ci sono mi ha detto non potremmo non potremmo non potremmo Fui l'antaccio